Benvenuto, benvenuta a Alcon Investor, su Alcon Investor 69. Oggi ti parlo del Deep Onion Shop. Che cos'è Deep Onion Shop? Che cos'è questo nome? Alcon Investor 69. È il sito internet ufficiale, il portale per il merchandise, cioè per gli accessori originali e ufficiali di Deep Onion. Non è bello solo per la signorina che ci sorride, che ci fa vedere la sua bella maglietta e non solo, ma è bello proprio perché è, a mio avviso, non solo per gli accessori, la merchandise, cioè le t-shirt, i cappelli e via dicendo che ti faccio vedere che vendono ufficiali, è, secondo me, importante, interessante, soprattutto perché è uno dei pochi, se non l'unico esempio concreto, dove una moneta virtuale, una criptomoneta, criptovaluta come Deep Onion in questo caso, viene realmente già utilizzata per comprare qualcosa. Nella roadmap di Deep Onion, quindi i piani per il futuro, che sono sempre stati rispettati quando un giorno prima, quando un giorno dopo, sempre rispettati, da qualche mese a questa parte, da quando è nata, c'è anche molte convenzioni con attività online e offline per usare Deep Onion, quindi usare delle transazioni private. In questo caso, guarda, ti faccio vedere come funziona e come puoi pagare già direttamente con i tuoi Onion, al momento del checkout, diamo un'occhiata al negozio, grazie a Impressive, Dog Lover e tutti gli altri amici della community di Deep Onion, puoi andare qua e cliccare su Community, puoi andare alla Community Ufficiale, te lo consiglio perché ti fai un'idea di come funziona questo Deep Onion, come ho fatto io personalmente a triplicare il valore da quando l'ho comprata, è una delle poche criptovalute con la quale sto guadagnando, naturalmente non è un consiglio finanziario, perché ricordati che nel mondo delle criptovalute, oggi investi 100, domani potresti avere 1000, ma potresti avere anche 0, magari è difficile avere 0, però puoi perdere anche il 90% di quello che hai investito, quindi fallo con cautela. È chiaro che un top trend, un interessante argomento per il 2018 e il 2019, saranno le transazioni private, Deep Onion qui la fa veramente da padrone. Bene, oggi parliamo dello shop, puoi andare ad esempio sulla categoria uomini, man, woman, vedi il plurale con la E, puoi scegliere tra t-shirt, sweet shirt, che sono tipo le felpe, e gli hoodies, e andiamo a vedere cosa sono, se il sito è un po' rallentato, non ti preoccupare, ma dato che è uscito da pochissimo, è perché ci sono veramente tanti utenti online, chi solo per curiosità, e chi veramente sta comprando qualcosa. Io personalmente comprerò, penso, un cappello e una t-shirt, eccola qua, vediamo i prezzi ad esempio, ecco, puoi comprarti la t-shirt di Volkane, la t-shirt con Deeper, The Monkey, Jimmy Bob, e tutti gli altri della community, è interessante, andiamo a vedere questa, no, questa mi piaceva, a me personalmente piaceva, ecco, questa qua, andiamo a vedere come funziona, ad esempio, ecco, qui puoi vedere, costa 2 onions e 25, la cosa che un po' mi trattiene, a comprarla, è che devo sprecare, tra virgolette, miei miei onions, i quali custodisco, gerosamente, addirittura in staking, come ti ho fatto vedere, nei video precedenti, quindi, all'incirca, costa una ventina di dollari, perché l'onion costa tanto, può scegliere la dimensione, ad esempio, 2XL, se è abbastanza grande, o S, se è abbastanza piccolo, il colore, black o nevi, mi pare che è il blu, esatto, se ad esempio, lo aggiungiamo al carrello, prima per esempio, avevo fatto la prova con un cappello, possiamo vedere, puoi vedere, direttamente, quello che ti dicevo prima, ovvero, il pagamento reale, già in produzione, già online, con la valuta di Ponyon, è rallentato, perché c'è molta gente online, eccolo qua, qui vedi il carrello, naturalmente, andiamo al checkout, ok, vedi, avevo aggiunto, questo è proprio quello che voglio, comprare il cappello, e una t-shirt, anche perché, fra un po' arriva l'estate, se Dio vuole, ecco qua, qui ci sono i billing details, naturalmente, devi mettere il tuo nome, il cognome, l'indirizzo, avevo fatto la prova, ad esempio, per la spedizione in Italia, e la spedizione è veramente, una sciocchezza, costa un onion, 61, quindi, con neanche 10 dollari, ti riesci a far spedire, la spedizione, tracciata, in questo caso, altrimenti, non tracciata, mi pare che, ecco, without tracking, addirittura, costa di più, quindi, ti conviene la spedizione tracciata, a una flat rate, cioè, un importo fisso, ecco, la cosa interessante, è che vedi, puoi pagare con Deep Onion, questa è una cosa, veramente interessante, se piazzi l'ordine, naturalmente, ti chiede tutti i campi in rosso, obbligatori, ecco, puoi andare avanti, e quindi, puoi vedere, che la roadmap di Deep Onion, questa qua, è completamente rispettata, addirittura, non c'era nella roadmap, il lancio, del sito, ufficiale, per il merchandising, quindi, per i prodotti ufficiali, ma la cosa interessante, e concreta, è che, oltre alla grande community, che c'è dietro, ha le transazioni, sempre private, a differenza, ad esempio, del Navcoin, che dovremmo aver visto, nei video precedenti, che ho pubblicato, forse, se non li ho pubblicati, li vedrai a breve, sempre qua, su Alcoin Investor 69, nei Navcoin, ad esempio, che è sempre un bel progetto, mi piace, c'è un vestito, ci sto perdendo il 20%, ma sono per tenerti alla lunga, le transazioni non sono private, di default, come avviene in DeepOnion, ma è l'opzione, per spuntare la privacy, vedi, te l'avevo fatto vedere poco fa, quando clicchi send, puoi decidere, se il pagamento è privato, oppure no, in DeepOnion, invece, il pagamento è sempre privato, e questo è molto interessante, e rispetta la privacy dell'utente, bene, puoi fare il check out, fammi sapere che ne pensi del DeepOnion Shop, se ti è stato utile questo video, pollice all'insù, se non ti è stato utile, pollice all'ingiù, lasciami un commento, perché ci tengo, a parte i commenti sulla signorina, che è molto bella, fammi sapere che cosa ne pensi, ti mando un salutone, sotto nel video trovi dei referral link, per degli sconti, per iscriverti ai vari exchange, tipo Binance, tipo KuCoin, con il quale puoi comprare DeepOnion, ad esempio, e hai il 50% di sconto, non fare come me, che ho fatto la scemenza, all'inizio, con la fretta, di iscrivermi a tutti gli exchange, senza neanche utilizzare un referral link, di qualcuno, in quel modo, potevo aiutare quel qualcuno, a ricavare qualcosa, e inoltre, io beneficiavo del 50% di sconto, quindi piano piano, anche io, sto disiscrivendomi, utilizzando magari un'altra email, e utilizzando dei referral link, come quello che ti metto sotto, perché, sì poco, però è sempre meglio, risparmiare la metà delle commissioni, e magari comprare, invece che 100 onion, 102 onion, ne hai due in più, e ti compri una di shirt, per esempio, no? Oppure te li tieni, quindi, utilizzare referral link, che ti metto sotto, trovi anche dei link Amazon, per aiutare questo canale, Altcoin Investor 69, ad andare avanti, se ti è stato utile, iscriviti, clicca la campanellina, senti quante cose devi fare, ci vediamo, nel prossimo video, grazie, ciao. Altcoin Investor 69, ovunque, allora, ciao. Grazie a tutti